segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te scusami ma questa cosa che scrive stamattina orsini perché anche di questo abbiamo parlato e cioè che draghi sta manipolando l'informazione sulla guerra trova d'accordo non ti sembra un po tanto dire che c'è una manipolazione forse c'è un mainstream forse c'è una non hanno bisogno di ma scusami non hanno bisogno di manipolare o come al solito orsini usa delle parole che si prestano a facili polemiche ma che bisogno c'è di manipolare un'informazione che è totalmente controllata dal governo che bisogno c'è di manipolarla cioè tutti i telegiornali della rai sono completamente nelle mani del governo sono completamente nelle mani delle forze politiche favorevoli all'invio di armi quindi perché dovrebbero manipolare semplicemente fanno un'informazione che da un unico punto di vista quello del governo è quello dell'ugraina naturalmente non c'è la considerazione di altri possibili punti di vista quelli dei cinesi per esempio oppure quelli dello stesso pudin perché ovviamente il pericolo di questo discorso che tende a togliere umanità a putin e che tu delegittimando il tuo nemico dal punto di vista umano non devi prendere in considerazione assolutamente